Villa Fastigi, Cala e Lebissi, Lepaglio dei Braceri e Biancorosso Botte e Pugni in Espiazza, Sabato Violento a Sottomonte Marchionni davanti al GIP, ascoltate le motivazioni del killer Rimini, ventenne pugliese e violentate da una 35enne di Mondavio Madonna dei Capuccini, lavori in via di ultimazione Una buona serata telespettatori di Rossini TV Benvenuti a questa nuova edizione di Rossini News Telegiornale di oggi, lunedì 31 luglio che apriamo rivivendo i momenti concitati dell'undicesima edizione del Paglio dei Braceri che ha visto ieri sera, nelle fossato di Rocca Costanza trionfare Villa Fastigi per il secondo anno consecutivo Siamo noi! Siamo noi! Siamo noi! Ancora Villa Fastigi per il secondo anno consecutivo il Paglio dei Braceri va nelle mani della contrada San Pietrana Villa Fastigi che ha vinto il Paglio più bello il Paglio che metteva in finale tutte le quattro contrade che hanno fatto la storia di questo evento siamo all'undicesima edizione e c'erano appunto in finale solo le contrade che questo Paglio l'avevano vinto Villa Fastigi appunto la Tombaccia, Pantano e Santa Maria dell'Arzilla una finale davvero infuocata che premia dunque i biancorossi È stata una finale diversa dalle altre perché siamo finiti in finale con le tre contrade più forti di sempre del Paglio dei Braceri e quelle più titolate che hanno vinto il Paglio quindi è stata una sfida proprio all'ultimo secondo, all'ultimo metro siamo riusciti comunque in un modo o in un altro a portare a casa la vittoria e riconfermare il gioco come l'anno scorso Prima delle 18 quanto ci credevate? Ci abbiamo sempre diciamo creduto nel senso non creduto, comunque puntato perché sapevamo che andavamo forte che è una bella squadra molto affiatata una squadra che comunque oltre alla corsa ha sempre messo il cuore e la passione dopo come tutte le corse ci vuole sia la bravura che la fortuna oggi un'altra volta si è riconfermato entrambi e quindi dai, bella vittoria, siamo tutti contenti Al di là dei vincitori è stata una festa come sempre il Paglio dei Braceri ha smesso di essere una novità ed ora è una felice tradizione come ricordato da Massimiliano Santini che l'ha ideato questo Paglio e da Matteo Ricci che l'ha sempre appoggiato in questa avventura Abbiamo iniziato 11 anni fa io ero un ragazzo, oggi ne ho 41 però è molto bello vedere l'avvicendarsi anno dopo anno dei giovani ogni generazione comunque sia che viene sfiorata dal Paglio viene diciamo in qualche modo inglobata da una marea di colore, da una marea di entusiasmo dall'amore di questa città e quindi ogni anno la Rocca viene infuocata da questa felicità Questi 11 anni ha recuperato un senso di appartenenza ai quartieri che era scomparso e anche un grande senso di appartenenza alla città una festa sportiva di grande intensità è una festa di popolo colorata che davvero riempie il cuore per tutti colori che la guardano sia per i pesaresi che per i turisti quindi viva il Paglio complimenti ancora a Villa Fastigi e soprattutto in bocca al lupo per la prossima edizione perché vogliamo che il Paglio continui a vivere sempre più sulle gambe dei ragazzi e della ragazza della città E poi come ogni edizione c'erano i premi collaterali Villa Fastigi non ha solo vinto il ciocco per i quattro giri attorno al fossato di Rocca Costanza ma ha vinto anche l'ambito premio per il miglior addobbo di quartiere e poi il miglior bracere è andato alla novità alla contrada di Pozzo il miglior giro nel miglior tempo sul giro attorno a Rocca Costanza l'ha fatto segnare la contrada di Santa Veneranda e poi ancora c'erano i tornei collaterali quello di Tiro alla Fune vinto da Santa Maria dell'Arzilla quello di Bigliardino vinto da Santa Veneranda e poi le Miss Miss Social l'ha vinta Miss Pantano ma la vera Miss Paglio 2023 è stata quella di Villa San Martino Martina Simoni e dalle palio dei Braceri passiamo ora alla cronaca con lo spiacevole episodio che per diversi attimi dello scorso sabato pomeriggio ha paralizzato lo stabilimento di Bagni Due Palme cinque ragazzi coinvolti in una violenta rissa in espiazza tra gli sguardi terrificati dei bagnanti si è trattato di un regolamento di conti vediamo sono stati attimi di incredulità e paura quelli vissuti sabato pomeriggio dai bagnanti di Bagni Due Palme zona sottomonte in pochi secondi una normale, calda e affollata giornata di mare di luglio si è trasformata nelle peggiori scene di un gangster movie erano le 5 un quarto di pomeriggio quando a colpi di caschi e fibbie di cinture tre ragazzi tra i 23 e i 24 anni hanno aggredito premeditatamente altri due coetane di origini sudamericane cinghiate botte per sistemare un conto in sospeso dalla sera prima quando uno dei due aggrediti avrebbe rivolto dei complimenti poco graditi ad una ragazza legata in qualche modo ad uno dei picchiatori un colpo sicuro quello scogitato dai tre individui visto che erano perfettamente a conoscenza della presenza dei due all'ombrellone di Due Palme sotto il quale si appoggiavano alcune volte da un gruppo di amici stando a quanto raccontato da alcuni testimoni i tre aggressori si sarebbero quattamente avvicinati accostandosi alle cabine dello stabilimento balneare appena individuate le prede si sarebbero diretti brandendo caschi e cinture colpendo poi i malcapitati in maniera cruda e violenta il tutto sotto gli occhi sconcertati di giovani, famiglie e bambini caos e parapiglia che hanno attirato anche l'attenzione dei bagnini della spiaggia che hanno cercato in qualche modo di interrompere il pestaggio nel frattempo sono state contattate le forze dell'ordine che sono intervenute con una volante dei carabinieri prima del loro arrivo però tutti e cinque i ragazzi si erano dileguati alcuni dei quali presentavano vistose, ferite e segni di collutazione mentre altri perdevano copiosamente sangue dal viso e dalla bocca i due colpiti sono finiti in ospedale con dieci giorni di prognosi per ciascuno mentre sul caso e sull'identità degli altri tre stanno indagando i carabinieri della stazione di Pesaro e venerdì pomeriggio davanti alle jeep di Urbino è stato ascoltato il killer Andrea Marchionni che ha rilasciato alcune arcane motivazioni che martedì scorso lo hanno indotto ad uccidere la cognata Marina Luzzi alle termine dell'interrogatorio è stato poi confermato il suo arresto anno dello sconvolgente le motivazioni che hanno portato Andrea Marchionni ad uccidere con un solo, freddo colpo di pistola la cognata Marina Luzzi dopo il folle gesto avvenuto nelle campagne di Fossombrone il 25 luglio scorso il killer è stato ascoltato venerdì dal jeep di Urbino nelle stesse ore in cui una comunità intera si stringeva tra dolore e incredulità per un ultimo saluto alla giovane mamma il giudice Francesca Dorazio oltre ad aver convalidato l'arresto optando per la reclusione in carcere del 47enne per tutto l'interrogatorio ha avuto di fronte a sé la follia di un uomo isolato dalla società che ha elargito dichiarazioni rabbrividenti da quanto emerso Marina rappresentava la sua nemesi complice a causa del vaccino fatto contro il covid di essere colpevole da due anni del malessere fisico e mentale dell'uomo stanchezza, problemi all'orecchio, dolori alle gambe, bruciature alla testa e insonnia tutte complicanze a detta di Marchionni dovute all'inoculazione del vaccino da parte della donna e della sua appartenenza alla massoneria Marina era il suo incubo invalicabile nella sua mente contorta turbinio di malesseri che il cognato ha deciso di porre fine premeditando la morte della compagna del fratello attendendo il momento in cui fosse sola in casa e continuiamo ancora a parlare di cronaca perché si trova agli arresti domiciliari il 35enne residente a Mondavio dopo essere stato accusato di violenze sessuali aggravate nei confronti di una ragazza di 20 anni i fatti risalgono nel primo maggio scorso quando la giovane di origini pugliesi si trovava a Rimini nei compagni ed alcuni amici pronta al rientro a casa in serata la ventenne si è diretta da sola ad una fermata dell'autobus che poi l'avrebbe condotto alla stazione del treno nell'attesa un 35enne si è accostato con l'auto a fianco della fermata chiedendole se volesse un passaggio fino alla stazione dopo aver accettato di essere salito in macchina l'uomo gli ha chiesto se voleva sniffare assieme a lui della cocaina ma di fronte al suo respingimento l'ha costretta poi più volte con la forza ad avere un rapporto sessuale orale dopo averla presa anche a schiafi il malvivente ha accostato l'auto abbandonando la ragazza sulla 14 poco prima di Pesaro piangente ed impaurita la giovane è stata ritrovata dagli agenti di polizia che l'hanno accompagnata in ospedale per accertamenti grazie alle telecamere gli agenti sono risaliti alle nominative delle 35enne che da ieri domenica 30 luglio si trova agli arresti domiciliari in attesa dell'interrogatorio e cambiamo ora argomento quelle che vi mostriamo in questo momento sono le immagini del proseguimento dei lavori di restauro della statua dei cappuccini a seguito dei danni subiti dalle terremoto del 9 novembre scorso operazioni che sono promosse dai Lions Club della Rovere con il contributo dell'azienda Renco SPA che si stanno completando con la sistemazione della calotta cranica della Madonina gli operai poi ultimeranno l'intervento con il collocamento della coroncina ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni che come sempre vi invitiamo ad inviare il nostro numero di Whatsapp che vedete qua in sottoimpressione 370-366-7210 queste sono le immagini girate da un nostro telespettatore che fanno riferimento alla pista ciclabile di Baia Flaminia che costeggi le fiume e foglie poco prima della sua foce dalle foto si possono notare numerose chiome di alberi folti di rami e foglie che sporgono sulla viabilità del percorso costringendo i pedoni a camminare nell'adiacente spazio ciclabile e lo scorso fine settimana alla piscina dello sport Village Parco della Pace è stato introdotto un nuovo macchinario all'insegna dell'inclusione vediamo il servizio presentiamo alla comunità il sollevatore nuovo che abbiamo acquistato per far sì che i disabili e tutti quelli che hanno problemi di edambulazione possano entrare in acqua e anche per premiare una nostra atleta di nuoto sincronizzato che è appena rientrata dal Giappone dai mondiali di nuoto sincronizzato c'era la necessità di fare entrare persone con determinate problematiche in acqua e il vecchio elevatore non funzionava più bene da qualche tempo così grazie all'aiuto di alcuni benefattori abbiamo acquistato un nuovo sollevatore che ci permette di fare entrare ed uscire dall'acqua con estrema facilità tutti gli utenti che ne hanno la necessità e a differenza di quello precedente un sollevatore mobile quello di prima era fisso su una corsia su una piscina invece quello di adesso lo possiamo utilizzare sia nella vasca interna che quella esterna ovunque abbiamo ricevuto questa richiesta di contributo per l'acquisto di una macchina che è fondamentale per l'attività natatoria delle persone con qualche disabilità siamo soddisfatti del fatto che l'acquisto è stato fatto la macchina è entrata in funzione e con un impegno modesto da parte di tutti si è raggiunto uno scopo molto 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 importante l'acqua è la vita per me l'acqua è stare diritta in piedi poter poter essere una persona normale perché l'acqua mi fa mi fa stare bene mi fa sentire leggera mi fa sentire dinamica mi dà allegria mi massaggia mi per me veramente è la vita infatti vengo tre volte la settimana in più anche a casa ho una piccola piscinetta vado al mare io proprio senza acqua non so se riuscirei ad andare avanti e la bici politana supera quota 100 km di lunghezza grazie alla riqualificazione di via Paganini ad annunciarlo sono il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e l'assessore Enzo Belloni che chiariscono come la viabilità di quel tratto di strada sia diventata più sicura grazie anche alla realizzazione della doppia pista ciclabile di 700 metri per lato verranno inoltre aggiunti 58 nuovi posti auto in previsione dell'ultimazione della piscina di via Togliatti e delle campo sportivo adiacente area in cui è stata resa definitiva anche la rotatoria dell'incrocio con i via Lombardia per un investimento complessivo di 200.000 euro e giovedì 3 agosto alle ore 18 la spiaggia libera di Baia Flaminia sarà teatro di dibattito per approfondire le cause del cambiamento climatico e dei conseguenti fenomeni atmosferici a discutere di queste tematiche saranno i ragazzi di Fridays for Refuge per Pesaro con lo scopo di mantenere vive anche nella provincia pesarese le delicate questioni ambientali e martedì 1 agosto alle ore 21 al piccolo castello di Novilar andrà in escena l'ultimo appuntamento con il Museo Archeologico Liveriano in E-Tour serate in cui la direttrice dell'ente Olivieri Brunella Paolini illustrerà la storia segreti e inedoti sulla necropoli di Novilara uno dei più importanti centri dell'età del ferro un'occasione unica per saperne di più sulla celebre stile di Novilara sulle tombe e i corredi funibri rinvenuti e conservati nel Museo Archeologico Oliveriano e continua la diciannovesima edizione del Festival Organistico Internazionale dei Vespri d'Organo a Cristo Re l'appuntamento di mercoledì 2 agosto si terrà nella chiesa di San Giovanni Battista grazie alla collaborazione con il centro Iniziative San Giovanni le note delle due Ad Libitum formato dall'organista Walter Gatti e da Elena Saccomandi alla Viola dialogheranno con le letture di Lucia Ferrati l'attrice didatta teatrale peserese delizierà il pubblico leggendo l'uomo che cammina dello scrittore poeta francese Christian Bobin e in questo weekend a Montellabatte si è tenuta la 77esima edizione della Sagra delle Pesche al Parco Hornburg era presente anche con un suo stand la boutique della carne di Osteria Nuova Benvenuti qui allo stand della boutique della carne di cui io sono il titolare che sono Ruben Esposito in questo stand troverete principalmente i nostri prodotti di nostra produzione principalmente la carne carne locale del Monte Feltro lavorata in boutique da noi poi troverete la nostra porchetta 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 fatta principalmente da noi con aromi naturali e con maiali sempre della zona in più troverete la nostra gastronomia di cui i gratinati di cui dopo le focacce tutto quello che è l'ambito della gastronomia la mia squadra si opera in questa Sagra di Montellabatte qui alla Sagra delle Pesche si opera a lavorare per me come un team quindi siamo tutti una grande compagnia e stiamo facendo del nostro meglio la mia macelleria si trova a Osteria Nuova di Pesaro nel comune di Montellabate e lì potete trovare anche altri prodotti come i nostri preparati di carne potete trovare anche i nostri salumi salumi fatti come una volta senza l'uso di conservanti salumi che ad oggi giorno è difficile trovare in più potete trovare i nostri preparati di carne preparati che ogni periodo in base al periodo estivo-invernale vengono a seconda del periodo quindi vengono a cambiare vanno a cambiare e poi troverete anche la nostra gastronomia quindi preparati cotti dai polli alla porchetta ogni venerdì potete trovare le patate i gratin che trovate stasera e le trovate anche nella nostra macelleria in più da noi qui troviamo anche la nostra salsiccia tutta naturale fatta sempre con maiali della zona e qui la potete trovare sia qui che poi nel nostro negozio potete trovare anche il castrato qui lo trovate cotto giustamente se venite in boutique lo troverete da farlo a casa ma sempre un castrato locale dove potete gustarlo in più qui troverete anche arrosticini di polli fatto da noi principalmente da noi con dei polli allevati a terra senza antibiotici quelli che troverete qui sono quelli cotti da noi troverete quelli crudi da fare sempre a casa come un preparato di carne e stiamo facendo tutto il possibile per fare il meglio e per goderci questa sagra e concludiamo questa nostra edizione di Rossini News parlando di sport con la presentazione della nuova Italservice Loreto Basket in vista della prossima stagione per quello che riguarda il progetto è una cosa bella infatti sono tornato a Pesaro proprio perché lo avrei fatto solo per una situazione di questo tipo quindi bello e devo ringraziare Lorenzo Pinza che mi ha chiamato per quello che riguarda la squadra speriamo di aver costruito una squadra competitiva che possa competere come dicevo prima per vincere perché è doveroso rispetto al budget che abbiamo avuto però concorrenza è complicata perché il campionato sarà molto difficile sono contento della squadra che si va formando abbiamo fatto un buon lavoro sul mercato Federico si è mosso molto bene ci siamo sempre confrontati secondo me stiamo allestendo una squadra che sicuramente proverà a vincere questo campionato chiaramente la formula è un po' un po' difficile perché su 96 ne vanno su 6 quindi però noi credo che abbiamo tutte le carte in regola per provarci però credo che la base sia creare un gruppo che nelle difficoltà così si compatti e riesca sempre a ottenere buoni risultati i nuovi innesti lo stesso dovrebbero essere un ragazzo che ha 29 anni e uno che ne ha 20 quindi andiamo sempre su quel discorso lì infatti abbiamo preso broglie battistiche sono delle sicurezze dal punto di vista anche di esperienza e altri ragazzi che invece dovranno metterci fisicità atletismo e voglia e corsa abbiamo abbiamo già delle idee siamo molto avanti in entrambe le situazioni solo che i giocatori in questo caso si devono incastrare quindi lo straniero va preso in funzione del giocatore che metteremo in panchina e viceversa dovremo chiudere a breve si gioca la domenica alle 18 al Paladì l'ex Paladino Pizza e si gioca in alternanza alla VL e con questa notizia di sport termina qua questa nostra edizione di Rossini News prima però di lasciarvi le previsioni delle meteo vi ricordo gli appuntamenti a cominciare dalla prima serata di questa sera dove potremo rivedere in replica il programma Green Tour questa sera avremo la puntata dedicata a San Lorenzo in campo alle ore 21.20 come ogni lunedì di questa estate poi le repliche giovedì alle ore 15.30 e domenica alle ore 12 e vi ricordo l'appuntamento domani mattina come di consueto in diretta alle ore 7.20 in diretta anche sulla nostra pagina Facebook con la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini repliche ore 8.20 12.20 14.20 e 18.20 e facciamo un salto anche alla prima serata di domani perché partiranno le nostre tre prime serate dedicate al 51.00 Festival del Gallo d'Oro domani sera alle ore 21.20 avremo la prima serata quella dedicata al Galletto d'Oro invece mercoledì il 2 di agosto avremo la serata la seconda serata quella che si è tenuta nella serata di venerdì scorso ed è la serata dedicata all'ospite in questo caso l'ospite era Antonio Mezzancella mentre la serata clou sarà quella di giovedì 3 agosto che è stata realizzata questo sabato il 29 di luglio sempre alle ore 21.20 la nostra prima serata con la terza serata del Gallo d'Oro quella dedicata appunto alle Festival Canoro ed è davvero tutto io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi auguro un buon proseguimento di serata grazie a tutti